Due percorsi da 7 e 15 km per la Sicurran Ravenna, la manifestazione sportiva che domenica 12 offrirà la possibilità agli appassionati del podismo di attraversare caserme, presidi e stazioni delle forze dell'ordine, dalla prefettura alla caserma dei vigili del fuoco fino al carcere. Parte del ricavato sarà devoluto al sorriso di Angelman, associazione Onlus che sensibilizza su questa rara sindrome genetica. Quarta edizione di una manifestazione nata quasi per caso 4 anni fa con un piccolo quantitativo di partecipanti, perché 200 partecipanti ormai sono un bel ricordo. È un urban trial molto particolare, noi tocchiamo o attraversiamo tutte le caserme, le sedi istituzionali cittadine e tutti questi palazzi vengono imbandierati, allestiti, alcuni con posti di ristoro, altri con posti invece di recupero di energia attraverso l'acqua. Comunque è una manifestazione a cui le istituzioni si sono dedicate con entusiasmo, con energia, con volontà.